Incredibile ragazzi, incredibile, clamoroso. Federica Pellegrini ha rilasciato un'intervista al settimanale Chi dove ha detto che sta pensando seriamente di ritirarsi. Ha detto che ha avuto tante delusioni umane nell'ultimo periodo fuori dalla vasca, ma la sua testa pensa di continuare e prenderà una decisione in autunno. Quindi appena compiuti i 30 anni l'immensa campionessa nei 200 stile libero italiana sta decidendo probabilmente di lasciare il nuoto. È una notizia che è arrivata un po' sorpresa sicuramente, ma neanche troppo perché comunque Federica Pellegrini penso che il suo lo abbia fatto ampiamente vincendo medaglie d'oro. Soprattutto l'ultima ai mondiali di nuoto lo scorso anno, incredibile nel 200 stile libero. Quest'anno non ha fatto male agli europei, poi ovviamente ha fatto una carriera sfolgorante Federica Pellegrini ed è giusto che si ritiri dopo tutti questi anni al top. E comunque anche negli ultimi anni ha competuto, come si dice, ha nuotato comunque alla pari con atleti 10-15 anni più giovani. A dimostrazione proprio che sia una fuoriclasse immensa. E se decidessi di ritirarsi non gli si può che dire comunque grazie di averci portato così in alto in questi anni con il nuoto italiano. Che è stato così in alto anche e soprattutto grazie a lei. Lasciate un commento qua sotto per sapere che cosa ne pensate sul ritiro di Federica Pellegrini. Pensate se ritiri oppure no, lasciate un mi piace al video. Arriviamo a 50 iscritti, manca un iscritto, un iscritto e 50, uno, uno dai! Arrivederci raga, noi ci vediamo al prossimo video, condividete anche il video.